Per promuovere e diffondere una cultura che si discosti da ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori, del settore sanitario e sociosanitario, con il fine di avviare percorsi congiunti nella convinzione del valore del bene salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sia obiettivo comune, è stato organizzato un convegno alla Sala dei Notari, promosso dalla Regione in occasione della giornata nazionale, sul tavolo le azioni messe in atto dalle aziende sanitarie dell'Umbria per contrastare il fenomeno in crescita, soprattutto dopo la pandemia, e gli impegni per il futuro, oltre alla necessità di sensibilizzare la società civile. L'incontro si è aperto con i saluti dell'assessore alla salute della Regione, Luca Coletto, e del direttore regionale Sanità e Welfare, Massimo D'Angelo. La Regione ha già redatto delle linee di indirizzo regionali per la prevenzione, la segnalazione e la gestione degli episodi di violenza a danno dell'operatore sanitario ed è stato rinnovato anche l'impegno di voler continuare il lavoro di sensibilizzazione, oltre al piano unico di formazione che è stato approvato il 15 febbraio scorso per fornire strumenti e strategie per affrontare e gestire episodi di violenza. Allora, già l'anno scorso siamo partiti con una FAD, con un'educazione a distanza, in videoconferenza, con tutto il corpo sanitario, che è già un passaggio importante per fotografare quella che è la realtà. Qui vanno incontro tutti i giorni. Stiamo lavorando a un protocollo vero e proprio in maniera tale da dare dei percorsi veri e propri ai nostri operatori per difendersi sia dagli attacchi verbali ma anche da quanto purtroppo succede tutti i giorni. Evidentemente ci sarà anche un coordinamento con le varie forze dell'ordine. Il fenomeno è in crescita nel 2022 con 141 casi in Umbria, 115 con aggressione verbale e 26 fisica. Sono stati 47 nel 2021 e 79 nel 2020. In 123 segnalazioni non si è registrato nessun danno, in 17 un danno lieve o moderato e in un caso un danno severo. Oltre ai classici luoghi dell'emergenza, ora gli atti di violenza sono poi in crescita in area medica e nelle sale d'attesa. Certamente la gestione del problema non è esclusivamente quella strutturale, ovvero una condizione di tipo a mitigazione del rischio, ma è un problema culturale. Problema culturale che dobbiamo sicuramente condividere con tutte le forze sociali per assicurare quanto più possibile questo bene comune che sono indubbiamente i nostri operatori per la tutela della salute dei cittadini.